Merry Christmas! Ciao ragazzi, un saluto da Pietro Spataro. Allora, oggi facciamo i pronostici della quindicesima giornata di Serie A. Iniziamo subito. Inter-Roma. Oddio mio! Questa è davvero una grande partita da vedere. È stasera alle ore 20.45. Atalanta-Verona. Interessante, direi. Udinese-Napoli. Lazio-Juventus. Lecce-Genua. Eh sì. Sassuolo-Cagliari. Spal-Brescia. Torino-Fiorentina. Sampdoria-Parma. E l'ultimo è Bologna-Milan. Allora, iniziamo da Inter-Roma. Non faccio pendolino oggi, dato che il Merry Christmas... Scherzo. Faccio ugualmente il pendolino. Mi pare che sono scherzoso, eh? È la prima volta che vi capita uno scherzo qua da me. Allora. Attenzione! Io sento che fa turn-over l'Inter. Attenzione! Lautaro Martinez! Parte bene l'Inter, perché va in vantaggio. Attenzione! Pareggio della Roma! Geco! Allora, vi dico la mia. Per me segnano entrambe da questa partita. Inter-Roma. Gol! Atalanta-Verona. Domani, partita dalle ore 15. Attenzione! Baila-Gomo il Papu! Il Papu Gomez! Atalanta va in vantaggio! Ai ai ai! E poi, attenzione, attenzione! Ilicic! 2-0! Mi ai ai ai! E poi l'Atalanta ancora, attenzione! Attenzione! Muriel! 3-0! Secondo me l'Atalanta, per me, vincerà contro il Verona. 1. Udinese-Napoli. E il Napoli è in crisi nera, come vedo nei risultati. Attenzione! Attenzione! E' un miracolo che segna... Llorente! Napoli in vantaggio! Calcio di rigore per l'Udinese! Non ci voglio credere! Il Napoli subisce ancora dei parecci! Ai ai ai! Parte lasagna e segna l'1-1! Povero Napoli, è inguagliato! Qua metterò una doppia, X2! Lazio-Juventus! Alla faccia! Questa sì che è una partita vera! Inter-Roma e Lazio-Juventus! Alla faccia in questa giornata! Inter e Juve sfidano le Romane! Attenzione! Attenzione! Immobile! Segna sempre questo marcatore! Prima o poi si troverà a fermare! Lazio in vantaggio! Anche se mi simpatizza la Lazio! Attenzione! Dibbala! Pareggio! Il pareggio della Juve! E poi... Attenzione! Attenzione! Al minuto 90! Non ci credo! Ha segnato la Juventus nel minuto 90! Ronaldo! Ai ai ai! La grande beffa è stata! Ah, io penso che... È difficile questa partita! Ci sono stati infortuni della Juve! Che dirà fuori per tre mesi che si è operato! Poi fuori Ramsey! Un altro infortunato! È messa male con gli infortuni la Juventus! La Lazio la vedo molto in forma! Forse ci sarà da soffrire in questa partita! Me la gioco pericoloso! Due! Lazio-Juventus? Due! Lecce-Genua! Allora, Lecce-Genua! Allora, il Genua viene da una sconfitta in casalinga contro il Torino, mentre il Lecce viene forse da un... Da un... Quando è che non me lo ricordo? Forse da una vittoria? O da un pareggio? Non lo so... Forse non ha pe... Ah, da una vittoria contro la Fiorentina! Vero è? Allora, di sorpresa ha vinto il Lecce contro la Fiorentina! Io la vedo un po'... Un po' avvantaggiata il Lecce, ma io non la rischio, io metterò uno X! Lecce-Genua segnerà, vi dico la mia! Babacar! Babacar! Lecce è in vantaggio! Attenzione! Attenzione! Pareggio del Genua! Pandev! Ai ai ai! Mi la vedo equilibrata sta partita! Attenzione! Il 2-1 del Lecce! Mancosu! O segnerà anche Farias, stessa cosa! Lecce-Genua 1-X! Sassuolo-Cagliari! Eh, le due... Due squadre che hanno giocato la Coppa Italia! Attenzione! Attenzione! Sassuolo-Cagliari! Gio-Pedro! Cagliari in vantaggio! Pareggio del Sassuolo! Caputo! Attenzione! Attenzione! È una squadra che non si vuole arrendere! Il Cagliari è una buona squadra quest'anno! Attenzione! Simeone! 1-2! Secondo me, più o meno il Cagliari o vincerò o pareggerà! X-2! SPAL-Brescia! Questa la vedo difficile! SPAL-Brescia! Attenzione! È ritornato Corini del Brescia, l'hanno esonerato a Fabio Gross! Attenzione! Betania! SPAL in vantaggio! Attenzione! Attenzione! Il 2-0 della SPAL! Non so chi ha segnato, ma ha segnato... Metto Vicari! 2-0! Per me vincerà 2-0 la SPAL! 1! SPAL-Brescia! 1! Torino-Fiorentina! Torino-Fiorentina! Attenzione! Aiaiaiai! Berenguerre! Torino-Fiorentina! 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 Pareggio della Viola! Torino-Fiorentina! Chiesa! È infortunato per questo riperichè della partita contro il Lecce! Secondo me segnano entrambe! Torino-Fiorentina! Gol! Sampdoria-Parma! Attenzione! Il Parma viene da una sconfitta meritata contro il Milan in casa! Mentre la Sampdoria viene forse da una sconfitta contro il Cagliari! Attenzione! Gervinio! Parma in vantaggio! Clamorosamente! A Luigi Ferraris! Il pareggio della Samp! Quagliarella! Per me... Sento che il Parma la può anche vincerla questa partita! X2! Sampdoria-Parma! X2! Bologna-Milan! Bologna-Milan! Attenzione! Teo Hernandez! Milan in vantaggio! Pareggio del Bologna! Ai ai ai! Pareggio del Bologna! Forse Orsolini segna! Poi il Milan, attenzione! Non ci voglio credere! Non ci voglio credere! Suso! 1-2! Secondo me il Milan vincerà questa partita! X2! Non la rischio! Bologna-Milan! X2! Giocate! Stop! Questi sono i pronostici per quanto riguarda la quindicesima giornata di Serie A! Ricapitoliamo! Inter-Roma! Gol! Atalanta-Verona! 1! Udinese-Napoli! X2! Lazio-Juventus! 2! Lecce-Genua! 1-X! Sassuolo-Cagliari! X2! Spal-Brescia! 1! Torino-Fiorentina! Gol! Sampdoria-Parma! X2! E Bologna-Milan! X2! Adesso non ho nient'altro da aggiungere! Domani aspetteremo Lazio-Juventus! Sarà una bella cosa! Ma la Lazio gioca pericolosa e lo sento! Io spero che il video di oggi vi sia piaciuto! Vi invito di lasciare un mi piace! Commentate qua sotto! Condividete anche il video! Se non siete iscritti! Iscrivetevi al mio canale se ancora non vi siete iscritti! Se siete ben iscritti cliccate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i miei prossimi video che usciranno! Seguitemi su Facebook e anche su Instagram! Ci vediamo molto presto per i miei prossimi video! E forza Juve! Ciao belli!